Musica Ho iniziato a ballare molto tempo fa, a due anni di età, o così dice mia mamma. La mia ispirazione è sempre stato Michael Jackson. Per tutta la vita ho fatto solo questo, ballare. E poi ho iniziato a fare reality show. Poi sono venuto qui e insomma Dubai è fantastica. Ci sono un sacco di opportunità, così ho lanciato la mia attività e poi ho aperto il mio studio. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go. Sta andando piuttosto bene ormai, sono dieci anni. E ora ho tre studi, a Borde Dubai, a Silicon Oasis e a Basha Heights. Ho iniziato da zero ma a Dubai mi hanno aiutato molto all'Ufficio delle pubbliche relazioni, il Ministero dell'Economia. Tutti mi hanno aiutato molto. Ecco come sono riuscito a fare tutto questo. È straordinario quando qualcuno viene nello studio e impara e io ho l'opportunità di cambiare la loro vita nella danza, nella loro salute mentale ed è per questo che siamo qui, letteralmente per trasformare la vita delle persone. Lavoro con diverse star, Shah Rukh Khan, Varun Dhavan, Rani Mukherjee e lo faccio da molto tempo. Perché già quando ero in India facevo reality show e all'epoca venivano ad aiutare facendo video e film, quindi ho ballato con loro e poi ho iniziato a fare coreografie per loro. È bello ed è diverso dai soliti corsi. È diverso per gli studenti perché bisogna seguire il loro linguaggio del corpo, perché tutte le star e le celebrità hanno un linguaggio del corpo diverso. Personalmente trovo meravigliosa Sunanda Sharma. Mia moglie mi ucciderà, ma è così. Amo la coreografia più della danza perché è un lavoro creativo, ho strumenti con cui posso creare qualcosa di nuovo. Per me Dubai è un po' una casa lontano da casa. Al momento ho tre studi e voglio aprirne un altro fra qualche mese. Finora ho insegnato a più di 20.000 persone e voglio insegnare di più e a più persone e voglio passare le mie conoscenze alle nuove generazioni. per la nuova generazione.